Amiche ed amici bianconeri mi raccomando iscrizione al canale, likes e commenti. E' lo sport più strano che ci sia, il Napoli ha segnato due gol in otto partite, il terzo contro la Juventus, inserimento al Super di Gallazzi che anticipa Lenzini, rimasta ferma, rivediamo, Lenzini aspetta quasi, poi va a protestare quindi l'intervento del direttore di gara a disturbare la traiettoria avversaria. Mauri cerca l'area di rigore, la trova, poi la torre di Dele Stal, palla fuori, di poco, rimessa di Bottin per Caruso che cerca la conclusione, trova l'Eurogoal, Arianna, Caruso, un lob che si spegne sotto l'incrocio dei pali, la Juventus trova il pareggio con la giocatrice più positiva in un pomeriggio, sino ad ora molto negativo per le ragazze di Montemurro. Caruso suona la carica per la rincorsa alla Roma, è 1-1, grande gol sul dibattito eterno in questo tipo di conclusioni, se sia voluto o meno. la porta alla guarda e la trova, con un grandissimo mancino, 1-1, quarto gol in campionato per lei, palì. sceglie di scavalcare la linea, cercare Tomato con i difettosi di Pellinghelli, Tomato passa, va giù, calcio di rigore per la squadra di Montemurro. Sbaglia Pellinghelli, prima toccare il pallone, poi abbatte Tomato, che andrà sul dischetto. Qui vediamo Pellinghelli, che sbaglia il controllo, poi va in scivolata che se il fallo fischiato da Andreano è quello di Bari. Pronta Caruso alla battuta, lei contro Bacic, la rincorsa della 21, Arianna. Caruso, è il suo momento, è il suo pomeriggio, doppietta, la Juventus è ribalta, il Napoli, 1-2. Quinto gol in campionato per lei. Il gioco si partirà con i due di recupero, qui rivediamo la rincorsa di Caruso, che guarda sino all'ultimo momento Bacic. Per Montemurro, Birestein lascia Pali, che pensa al tiro, lo fa partire senza problemi Bacic. Con Jacobo pronto a sganciarsi, Caruso cerca l'area, Salvai, traversa! Non è finita, ancora anticipo sulla 23. Vediamo, rampalla di Caruso, super torsione di Salvai, non riesce a combinare con la compagna. Allora Tomà dall'altra parte, diventa un 2 contro 2, arriva anche Birestein in supporto. Tomà la cerca, la trova, Birestein, 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 salta anche Bacic, ma si angola, poi ancora Birestein. Alla fine Bacic recupera la posizione, non trovando più di fatto lo specchio della porta. Birestein è andata verso l'angolo esterno, poi è tornata, Bacic l'aspettava lì. All'altezza del dischetto, vicino però a Mignan, chiama lo schema Maui. Conta i passi, parte il suo destro, secondo palo di Marino. Senza problemi però, per Mignan. Con questo pallone che sembra destinato direttamente all'area juventina. Così è, di Bari, lunghissimo, l'attore, Fredericks non aggancia, poi il destro al volo. Tentato alla grande da Gallazzi. Sorpassato da Fredericks, poi pallone che torna però, nei piedi della 13. Cerca di passare, trova, una grandissima palla per Birestein. Birestein va sfidare di Marino in 1 contro 1, Birestein ce l'ha sul destro. Poi l'appoggio al centro, Thomas! 3-1 Juventus. Lindsay Thomas, quarto gol in campionato, quarto gol nelle ultime tre. Che momento! Pensate, ne aveva segnati tre nelle precedenti. 21, non una partita brillantissima. La francese, con il rigore che ha portato il gol del 2-1. E con questo cioccolatino scartato e mangiato. sull'assit di Birestein, che le serve un gran pallone non banale, perché da lì è facile, a volte lo vediamo, che questi traccianti vengono intercettati da una giocatrice come nella posizione di Di Bari, che però è leggermente in ritardo, ma la cosa più difficile dell'azione la compie sicuramente Boatin. Ed ecco anche il fischio finale, che certifica appunto il successo bianconero. Napoli 1, Juventus 3, a rimonta bianconera, qui Montemurro infatti rende l'onore delle armi a seno.